Qual è il dialogo di dialogarti? Di portare la poesia in braccio alle persone, cioè avere più pubblico possibile e raggiungere più persone possibili. Come l'abbiamo fatto? In tutti questi anni, in questi pochi anni, l'abbiamo fatto unendo la poesia dei nostri reading, delle nostre letture, delle nostre presentazioni ad altre forme artistiche, che potessero essere musica che usciva da un campionatore, musica che usciva da uno strumento suonato dal vivo, acustico, oppure da proiezioni, da passi di danza. Mi chiamo Sissi Bassani e sono una ballerina. Ho 17 anni e vengo da Savignano sul Rubicone. Mi sono avvicinata alla danza quando avevo tre anni per mia volontà, che mia mamma ha secondato, diciamo. Non so, non mi sono mai stufata di questa disciplina. Sarà che all'inizio era un gioco, poi con l'avanzare del tempo è diventato quasi un'abitudine che attualmente si è trasformata in un lavoro. Infatti è da due anni che insegno danza ai bambini e faccio parte di una compagnia di danza contemporanea di Ravenna, che è il gruppo Nanu. E tramite questa compagnia ho potuto conoscere anche diverse realtà che navigano intorno alla danza contemporanea, che è un po' lo stile di danza che io preferisco e che mi riesce meglio, diciamola anche così. È un'esperienza nuova per noi, nel senso che siamo sempre abituate a improvvisare grazie anche alle diverse realtà in cui ci ha fatto inserire la nostra insegnante di danza e anche in diversi spazi come in piazze abbiamo fatto improvvisazioni in urbana, quindi anche in strade, soprattutto a Cesena, che è la nostra città natale. Però non ci era mai capitato di dover danzare insieme alla poesia, che è nuova per noi come esperienza, e soprattutto anche danzare con un videomapping che ci proietta sul muro e proietta i nostri movimenti. Io mi chiamo Sara, vengo come Sissi da Savignano e faccio danza da quando avevo quattro anni. E anche io come Sissi ho affrontato, prima di tutto, un discorso di danza come gioco, quindi come andare lì perché c'erano magari i miei vicini di casa, così. Ora, piano piano, anche crescendo, penso di avere raggiunto una consapevolezza del mio corpo tale che è come se muovendomi in uno spazio e riuscissi appunto a dialogare sia con Sissi, ma anche proprio con le persone che sono dentro a quello spazio e anche con il pavimento stesso. Cioè, quando ballo prendo come punto di riferimento tutto, cioè cerco di sfruttare un tavolo, una sedia, un sasso, una qualsiasi cosa. Oltre al livello dei nostri versi, al nostro livello letterario, che può piacere o non piacere, il modo in cui abbiamo portato in giro la poesia e il linguaggio poetico ha avvicinato le persone. Ecco, io con Dialogarti ho tentato di fare questo, avvicinare anche le altre forme artistiche. Sono Sara Alberghini, sono una fotografa per passione, che ha iniziato a fotografare anni e anni fa, oramai, inizialmente da adolescente, poi ho abbandonato la macchina fotografica e l'ho riscoperta con l'avvento del digitale. Diciamo che però il mio vero percorso artistico è iniziato forse nel 2009, quando ho incontrato Daniele Pezzoli e il gruppo Polaroid Art Italy, di cui Daniele Pezzoli è fondatore. Daniele e tutto il resto del gruppo mi hanno avvicinato prima di tutto alla fotografia istantanea e successivamente ad altre forme di fotografia, fino anche a un ritorno analogico, e ultimamente anche alla Slow Photography, che è questa nuova corrente della fotografia più pensata e che se vogliamo si va a contrapporre con il tipo di fotografia di cui magari Daniele ci parla, un visto quando parlerà del mezzo che utilizza. La Slow Photography utilizza anche Pinol, fotocamera e Pinol, quindi una fotografia lenta, pensata, che guarda l'immagine e ne ascolta il silenzio. Sono stata invitata dal gruppo 77 e da Daniele Pezzoli a disporre un lavoro, un lavoro inizialmente, che mi potesse rappresentare. Inizialmente avevo pensato a un lavoro che sto portando avanti di documentazione degli Stati Uniti, e poi però con Daniele già avevamo parlato di una similitudine che trovavamo fra alcune foto che io avevo scattato negli Stati Uniti e altre che lui scattava nella bassa bolognese e abbiamo allora pensato che fosse la giusta occasione per presentare qui un lavoro che unisse i due singoli progetti e che li mettesse in dialogo e che soprattutto mettesse a dialogare le immagini provenienti da un mondo che fa parte del nostro immaginario collettivo, che è quello dell'America, con il mondo del nostro quotidiano, che è quello della bassa bolognese. Sono Daniele Pezzoli e con Sara, che ha parlato prima di me, presentiamo appunto in questa sede il nostro progetto che si chiama Minnesota 051. Come per Sara, anche per me questa è la prima, diciamo è una prima volta, è la prima volta che mi trovo a disporre in un ambiente poliedrico, cioè assieme ad altre forme d'arte, qui troveremo danza, danza improvvisata, musica, pittura, poesia, quindi anche per me questa è una novità. Devo dire che inizialmente mi preoccupava un po' questa cosa, nel senso che appunto era una prima volta e invece portando avanti il progetto, sviluppandolo, conoscendo le persone che assieme a noi hanno dato vita a tutto questo, mi sono sentito via via sempre più a mio agio e adesso sono veramente soddisfatto di poter partecipare, di poter essere qui appunto con gli altri artisti. Che dire, allora innanzitutto il lavoro è un lavoro che tende a, diciamo mi piace dire, tende ad eliminare quelle che sono le distanze reali, le distanze chilometriche che separano determinate realtà. Qui abbiamo delle foto provenienti dalla Minneapolis, dalla provincia del Minnesota, così le confrontiamo con immagini che invece nascono quasi per caso nella campagna bolognese, nella bassa bolognese, si chiama bassa bolognese. Tutto questo è nato dall'aver visto qualche foto di Sara, averla paragonata a qualche foto mia, fatta ripeto quasi per caso, e da lì è nata l'idea appunto di portare avanti, di sviluppare questo progetto. Una cosa che credo sia da dire, insomma anche così come nota di colore a corredo delle immagini, i media usati, quindi gli strumenti utilizzati per fare queste riprese sono nettamente agli antipodi. Qui parliamo di una macchina fotografica seria, eccetera, usata appunto da Sara e uno strumento invece molto più, mi piace definirlo pop per quanto mi riguarda, che è il cellulare, il telefono cellulare, cioè le mie foto sono scattate con un cellulare e il cellulare oggi io lo vedo come il Polaroid, come quello che è stato il Polaroid negli anni 60, negli anni 70, insomma nei momenti di punta del proprio splendore. Quindi ecco, fotografie fatte e con una macchina fotografica e con un cellulare. Sono sempre stata abituata a presentare i miei lavori all'interno di arti fotografiche e quindi in esposizioni di fotografia. Questa volta è una novità per me perché si tratterà di confrontarmi con altre forme d'arte. In una casa appunto vedo oggi delle poesie fra le mie foto e quelle di Daniele che ho già letto e che effettivamente danno un ulteriore senso al lavoro che abbiamo fatto. Ci saremo noi poeti, noi poeti del gruppo 77, ma il nostro ruolo è semplicemente un ruolo di piccolo filo conduttore, sottovoce. Noi in questa manifestazione non vogliamo essere in primo piano ma vogliamo essere semplicemente illegante. Attraverso la poesia, attraverso il linguaggio poetico, tutte le forme artistiche possono convivere, possono essere contenute nello stesso luogo. Insieme al videomapping di Stefano Baraldi, insieme a tutti coloro che hanno dato la possibilità di creare e di costruire questa bellissima manifestazione.